Questa è libertà e la libertà non necessariamente arriva dal possesso, ma arriva anche da una gestione molto efficace dell'affitto. Un commento che trovo molto interessante sempre sul tema dell'acquisto e dell'affitto della casa, Damiano scrive Porto la mia esperienza, 48 anni, lavoratore dipendente con uno stipendio medio, capacità di risparmio attuale 10% abbondante. Ovviamente convivo da 17 anni con la mia compagna, non ho figli, sono in affitto da 17 anni nella stessa casa con gli stessi proprietari. Prima considerazione, la casa in cui vivo mi piace tantissimo e non era in vendita. Seconda considerazione, nella stessa zona 17 anni fa non mi sarei potuto permettere di comprare una casa nemmeno con un moto a 30 anni. Quindi ha scelto l'affitto in modo molto ragionevole considerando una fattibilità dell'acquisto, cioè scusami, l'infattibilità dell'acquisto. Ha dato priorità al tipo di immobile che lo soddisfacesse in termini di zona, in termini di tipologia dell'immobile e non al fatto che lo potesse acquistare o che fosse affittabile, diciamo. Per me è un modo di ragionare molto interessante. I miei genitori e la mamma della mia compagna hanno tra i 75 e gli 80 anni e sono proprietari di case. Il mio affitto è basso, non è bassissimo, ma basso rispetto al mercato perché in questi anni abbiamo sempre pagato regolarmente e giustamente il proprietario è ben felice di trattarmi con un occhio di riguardo. Sottolineo questo aspetto perché qualche commento lasciato sotto il video precedente era guarda che non è possibile negoziare con i proprietari di casa. Perché avevo fatto l'esempio che si può negoziare condizioni, ad esempio, guarda, veniamoci incontro, magari io mi accollo dei lavori, il bagno di questo immobile, faccio un esempio stupido, per dire questa casa a me piace, però il bagno sarebbe da rifare, magari io pago il facimento del bagno, rifare un bagno costa 5, 6, 7 mila euro, un bagnetto normale. Magari io mi accollo questa spesa e tu nel contratto ci accordiamo sul prezzo. È oggetto di negoziazione e qualcuno ha commentato, no, guarda, tu non conosci i proprietari, come se questo immobile non fosse in affitto e quello di fianco pure. No, tu non conosci i proprietari è un concetto teorico, in pratica non si fa, invece si fa. Se non sapete negoziare con i proprietari, negoziate. Ci sono riuscito io, qui sono in affitto nell'ufficio di piano finanziario, c'è riuscito Damiano che ci racconta la sua testimonianza, si negozia con i proprietari, ok? E soprattutto se ti dimostri un bravo, come dire, una persona che non ha, che non dà problemi al proprietario, come ha dimostrato Damiano che ha 17 anni, che non perde il pagamento di una rata, cioè di un affitto, diciamo, di una mensilità, il proprietario gli ha fatto uno sconto, il proprietario è ben felice di trattarmi con un occhio di riguardo, proprio perché ha pagato sempre in modo regolare. Stessa cosa che succede qua dentro, ho creato un automatismo, il bonifica fatto in automatico, è tre anni e mezzo che siamo in questo ufficio, non ho mai perso, non ho mai pagato il ritardo e ho delle ottime condizioni per quanto riguarda lo stare in questo ufficio che è di 250 metri quadri in centro a Modena. Ho un piccolo capitale investito che mi fa guardare al futuro con una certa tranquillità e non mi fa sentire in balia del mio datore di lavoro né dell'Inps. Questa è bellissima, è la tranquillità di questa persona, a me piace molto e penso che sia un tema molto importante perché ha la casa che vuole e ha una condizione di tranquillità finanziaria, il tutto avendo il controllo delle sue finanze nel quotidiano, un bellissimo esempio di gestione finanziaria. Una pandemia, l'inflazione più elevata degli ultimi 20 anni, il più veloce aumento di tasse di interesse degli ultimi 20 anni, due conflitti alle porte dell'Europa. Se sei un investitore negli ultimi anni avrai dovuto come me sopportare un grado di stress molto elevato. Stress che purtroppo mette in difficoltà molti investitori che non sono in grado di gestire l'incertezza che contraddistingue questo momento. Per questa ragione abbiamo creato un webinar totalmente gratuito che ti permetterà di acquisire strumenti e conoscenze per navigare questo particolare contesto di investimento. Scoprirai come investire in tempi di crisi, investire in tempi in cui abbiamo poche certezze, come pianificare l'evoluzione delle tue finanze nel lungo periodo e come farlo con la giusta mentalità. Il webinar che è totalmente gratuito si trarà mercoledì 13 dicembre alle ore 21. Per registrarti clicca il link che ti trovi in descrizione. Ti aspetto. E questa tranquillità mi ha permesso di cambiare lavoro in cerca di una migliore posizione senza troppi mal di pancia e anche di contrattare con il mio attuale datore di lavoro senza troppi mal di pancia. Non aveva costrizioni di mutuo, non aveva, ha potuto prendere decisioni su altre sfere della propria situazione finanziaria, della propria vita personale e professionale senza vincoli. Questo è un elemento che troppe persone non considerano e per me dal punto di vista strategico la decisione di Damiano è stata perfetta. Poi non lo conosco, non so niente di lui, ma questi elementi secondo me sono molto importanti nell'ottica di avere un'ottima qualità della vita. Guardando la mia vecchiaia potrei decidere tra un bel po' di cambiare casa o cambiare zona. Quando guardo indietro non avere comprato casa è stata la scelta migliore che avessi potuto fare perché negli anni ho vissuto esattamente come, dove volevo vivere, guadagnando in benessere, che è importante, e mi sono creato lo spazio economico per guadagnare al futuro con un barlume di serenità. Vuol dire che questa persona ha da parte risparmi e verosimilmente è a posto con la pensione, ha risparmi per non sentirsi in balia del suo datore di lavoro e vivere una vita professionale, lavorativa, senza stress perché non ha un mutuo da pagare e quindi deve farsi andare bene delle situazioni che non gli vanno bene. Questa è libertà e la libertà non necessariamente arriva dal possesso ma arriva anche da una gestione molto efficace dell'affitto. Poi se uno ha le condizioni di poter acquistare che acquisti, ma questo è un bellissimo esempio di qualità della vita in una condizione di affitto ed è la ragione per cui l'ho voluto portare su questo canale. Chiaramente come dice Damiano ogni caso è un caso a sé ma lo ripeto non avere un mutuo per me negli anni ha fatto la differenza e secondo me l'aspetto psicologico di non avere soldi che dobbiamo dare a qualcun altro ma essere indipendenti ha una forte componente in termini di qualità della vita, pensare che il possesso possa darci la felicità senza considerare altri aspetti come lo stress mentale di prova a non pagare una rata del mutuo oppure non poter crescere a livello professionale perché si è svincolati di un posto o altri aspetti che vengono troppo spesso trascurati quando si valuta l'acquisto della casa impediscono di prendere una decisione che sia veramente focalizzata su un elemento che dovrebbe essere quello che dovrebbe spingere una decisione di questo tipo aumentare la qualità della vita e le decisioni di Damiano secondo me sono state molto lungimiranti nel massimizzare la qualità della vita. Grazie a tutti.